Sono in corso interlocuzioni per fare in modo che alcune tappe del Tour de France 2024 si svolgano in Italia, tra Toscana, Emilia Romagna e Piemonte. Lo ha rivelato la Gazzetta dello Sport e la notizia è stata poi successivamente confermata dal governatore Emiliano Stefano Bonaccini e dal sindaco di Firenze Davio Nardella. La prima tappa italiana potrebbe essere quella del 29 giugno da Firenze a Rimini con passaggio a Faenza. Poi a seguire si ipotizza Cesenatico Bologna, poi Modena Piacenza con passaggi sull'Appennino Parmense e quello Reggiano, l'ultima da Pinerolo verso la Francia. Per adesso nulla di definitivo è stato ratificato.